Una commissione per valutare i pronto soccorso. La regione siciliana intraprende un'azione incisiva per migliorare l'efficienza di 56 pronto soccorso dell'isola. Sciopero rientrato, i lavoratori AOSU terminano le proteste. Questa mattina l'incontro con il presidente della regione, l'assessore regionale Andrea Messina. Nuove scoperte archeologiche a Selinunte, gli scavi archeologici hanno rivelato un tempio nascosto e nuove edifici nei pressi dei santuari urbani dell'Acropoli. Buonasera e vi ritrovati con il nostro appuntamento serale. In seguito ai fatti dell'ospedale di Patti, la regione siciliana avvierà un'indagine approfondita su 56 pronto soccorsi siciliani. Sarà infatti istituita una commissione di valutazione. Sentiamo. La regione siciliana ha deciso di intraprendere un'azione incisiva per migliorare il funzionamento dei suoi pronto soccorso. Su iniziativa dell'assessore regionale alla salute Giovanna Volo è stata istituita una commissione tecnica di alto livello con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'operatività delle 56 strutture di emergenza presenti sul territorio. Il nuovo organo di verifica, proposto dai dirigenti dei Dipartimenti della pianificazione strategica Salvatore Iacolino e dell'assessorato regionale alla salute Salvatore Requirez, avrà il compito di esaminare sia le condizioni strutturali che assistenziali dei pronto soccorso. La commissione identificherà eventuali criticità e proporrà soluzioni operative per affrontare le carenze riscontrate al fine di migliorare il servizio offerto ai cittadini. Le attività della commissione dovranno concludersi entro 90 giorni al termine dei quali sarà redatta una relazione finale contenente i risultati delle verifiche e le proposte per risolvere eventuali problemi individuati. Noi anche su indicazione richiesta da parte del presidente Schifani, proprio alla luce di quanto è accaduto a fatti, abbiamo costituito una commissione composta da professionisti esperti sia di tutto quello che sono le attività di pronto soccorso che in qualche misura anche di percorsi organizzativi, quindi diciamo direttori sanitari, infermieri che hanno l'esperienza di governo di quello che sono i magazzini di reparto, in maniera da poter far sì che possano visitare tutti i pronto soccorso della regione e insieme agli operatori di questi trovare eventualmente, verificare se ci sono delle difficoltà e in un grande rapporto di collaborazione trovare soluzioni che possano essere sia specifiche che eventualmente allargate e trasferite anche alle altre realtà, perché l'obiettivo del governo regionale e del presidente è quello di dare la maggiore serenità possibile a un lavoro così difficile già di suo, ma reso ancora più difficile e stressante in una situazione di grave carenza di personale E non ci sono ancora purtroppo novità circa il sub di 67 anni che da ieri è disperso nelle acque di Calampiso attualmente le ricerche finora condotte non hanno dato alcun risultato Momenti di angoscia, Macari per un sub disperso in mare lo cercano da ieri Dell'uomo di 67 anni, milanese d'origine ma residente ormai da anni nella frazione sanvitese e nemmeno l'ombra La guardia costiera ha rinvenuto il gommone con il quale era uscito per un'immersione legate ad una cima alle bombole d'ossigeno Il natante era a largo di Calampiso, dove l'uomo si sarebbe tuffato in un fondale che può raggiungere fino ai 130 metri di profondità L'allarme è scattato ieri alle 14, quando il gestore dei pontili di San Vitolo Capo dove il 67enne ormeggiava il gommone, ha contattato la sala operativa della guardia costiera Il sub infatti non aveva fatto rientro per l'ora di pranzo, come era solito fare Nonostante le ricerche serrate, proseguite anche per tutta la notte, del disperso nessuna traccia Comandante ricerche serrate del sub, però almeno per il momento, nessuna traccia? Purtroppo no, purtroppo non abbiamo ancora rinvenuto nessuna traccia del sub L'allarme è scattato ieri alle 14, quando il gestore dei pontili a San Vito dove di solito questo sub rientrava a un determinato orario appunto passato questo orario si è insospettito, ci ha chiamati Abbiamo mandato subito il nostro battello veloce da San Vito che ha cominciato le ricerche, ha rinvenuto il gommone di appoggio del sub però del sub non c'è stata traccia e per cui le ricerche si sono estese, abbiamo mandato la nostra motovedetta SAR da qui da Trapani più i sommozzatori dei vigili del fuoco che ci stanno dando una grossa mano hanno fatto delle immersioni e ancora l'elicottero partito da Palermo dei vigili del fuoco con i loro rescue swimmer che anche hanno fatto delle immersioni purtroppo fino a ieri all'imbrunire non c'è stata traccia nonostante l'oscurità abbiamo richiesto anche l'intervento dell'aeronautica militare con l'82esimo stormo di Birgi che ha mandato un elicottero che con le loro strumentazioni riesce a individuare le fonti di calore a mare che ha fatto varie spazzate durante la notte e purtroppo non abbiamo ancora avuto nessun esito di queste ricerche che comunque attualmente sono ancora in corso ci sta sempre la nostra motovedetta SAR, due gommoni veloci nostri e anche i gommoni dei vigili del fuoco e stiamo reperendo un ROV, sarebbe il Remote Operative Vehicle che è in grado di un robottino filo guidato che è in grado di scansionare il fondale perché stiamo parlando di un fondale che va dai 50 ai 70 poi può riscendere una scarpata fino a 130 metri stiamo parlando della Calampiso, quindi nella riserva dello Zingaro gli sforzi li stiamo facendo purtroppo il passare del tempo non ci facilita da questo punto di vista ma comunque gli sforzi continueranno fin quando speriamo di avere un esito positivo Rientra dopo giorni di proteste lo sciopero dei lavoratori ASU che operano all'interno dei beni culturali in Sicilia Rientra lo sciopero dei lavoratori ASU che operano all'interno dei beni culturali della Sicilia lo hanno comunicato le organizzazioni sindacali della funzione pubblica con una nota congiunta diramata dalle segreterie regionali dopo l'incontro con il presidente della regione Renato Schifani e l'assessore Andrea Messina in questa occasione il governo regionale ha assunto l'impegno di trovare nei breve termine soluzioni definitive per la stabilizzazione di questa categoria di personale il governo Schifani avrebbe già individuato due possibili opzioni la prima ipotesi di lavoro prevede l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione regionale a scaglioni diluiti nel corso dei prossimi anni la seconda proposta invece prevede l'assunzione in un unico step di tutti i lavoratori ASU dei beni culturali presso una società partecipata della regione secondo quanto dichiarato dal governo regionale nella seconda metà di settembre potrebbe essere convocato un nuovo tavolo di lavoro per trovare una soluzione in grado di condurre all'attesa stabilizzazione i lavoratori ASU impegnati nei beni culturali erano in sciopero dal 26 luglio la richiesta era chiara volevano conoscere le intenzioni del governo regionale sulla loro situazione lavorativa soprattutto dopo che a gennaio scorso l'Arsa aveva approvato la norma per porre fine al precariato il 12 marzo inoltre il presidente Schifani aveva dichiarato che il suo programma di governo prevedeva la fine del precariato un impegno che secondo quanto dichiarato da Schifani sarebbe stato mantenuto a breve ma nulla in realtà era stato fatto Voltiamo adesso pagina l'acqua dei pozzi privati non può essere utilizzata per consumo umano a renderlo noto durante un incontro di prefettura all'ASP di Trapani Sentiamo Una soluzione che potrebbe garantire la continuità del servizio idrico in città era stata definita così l'ordinanza urgente firmata dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida di inizio luglio Con il documento si autorizzavano i funzionali dell'ASP di Trapani ad eseguire verifiche sui pozzi privati La decisione del sindaco Tranchida nasceva ovviamente dalla dichiarazione dello stato di severità idrica alta in Sicilia Requisire pozzi privati dunque era stata definita una misura urgente e necessaria che avrebbe potuto dare un po' di sollievo ai cittadini Avrebbe potuto appunto perché sembrerebbe che l'ASP e il genio civile abbiano comunicato che l'acqua dei pozzi privati non può essere utilizzata per il consumo umano o per scopi igienico-sanitari I funzionari lo hanno specificato durante una riunione che si è tenuta in prefettura Trapani Al centro dell'incontro che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei comuni di Alcamo, Castellammare e Trapani e poi di Siciliacque, Ati, Trapani e Protezione Civile chiaramente c'era la crisi idrica in provincia Nonostante questo, il comune di Trapani in questi giorni sta reagendo bene grazie ai lavori fatti a Bresciana dove adesso ci sono 16 pozzi in funzione su 18 Grazie a degli impianti più efficienti anche Pozzo Madonna ha raddoppiato le sue quantità di acqua Va da sé che, anche grazie a queste operazioni il comune di Trapani al momento è autosufficiente La turnazione in queste ultime due settimane è stata infatti regolare da annoverare poi che proprio la città di Trapani è al momento virtuosa per quanto riguarda la dispersione dell'acqua potabile secondo il rapporto del centro studi di Mestre infatti in Sicilia le reti idriche perdono il 51,6% dell'acqua potabile a Trapani invece si perde solo il 17,2% risultando quindi virtuosa rispetto ad altri comuni della regione E ora andiamo a Selinunte dove gli scavi condotti hanno messo in luce nuove scoperte archeologiche vediamo di cosa si tratta Recenti scavi archeologici presso il parco di Selinunte hanno portato alla luce sorprendenti ritrovamenti tra cui nuovi edifici nell'area sacra e una struttura che potrebbe essere un piccolo tempio situato dietro il Tempio C Questi ritrovamenti potrebbero modificare la comprensione del sito archeologico già noto per la sua importanza storica Le attività di ricerca effettuate in questa zona ha dichiarato l'assessore a beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato riservano sempre nuove scoperte e in questo caso si tratta di rinvenimenti di grande valore In autunno, quando riprenderanno le attività avremo dettagli più chiari sulla portata del ritrovamento Da oltre un decennio un team congiunto dell'Istituto of Fine Arts New e dell'Università degli Studi di Milano conduce scavi sistematici a Serinunte concentrandosi sui santuari urbani all'interno dell'acropoli Quest'ultima campagna di scavi ha segnato un significativo progresso tanto che, se confermate, le nuove scoperte potrebbero portare ad una revisione del perimetro dell'area archeologica Domenica 11 agosto alle 18 presso il Baglio Florio i risultati delle ultime esplorazioni saranno presentati dal direttore del parco archeologico Felice Crescente e dall'archeologo Clemente Marconi che ha coordinato le operazioni sul campo Tra i ritrovamenti figurano un grande accesso monumentale a nord-ovest un ambiente con pozzo circolare e oggetti preziosi come un gioiello in oro e una cuspide di lancia rituale Le ricerche si sono concentrate anche sulle pratiche rituali legate alla costruzione del Tempio R dove sono stati trovati segni di cerimonia e di purificazione Gli archeologi continueranno le loro indagini in autunno con l'obiettivo di svelare ulteriori dettagli su questo affascinante sito La pagina dello sport domani sera si terrà la partita di Coppa Italia fra Cavese e Trapani Si conclude così la nostra edizione serale Vi auguro una buona serata Grazie per averci seguito È la vigilia di Cavese e Trapani partita valida per il primo turno di Coppa Italia di Serie C La prima gara della stagione presenta diversi punti interrogativi soprattutto dal punto di vista della preparazione atletica Il tecnico de Granata Alfio Torrisi ha presentato la sfida dopo la rifinitura della vigilia Le sensazioni sono belle, positive, le sensazioni che ti aprono la stagione La prima è sempre la più bella, la più affascinante ha maggior ragione che la prima tra i pro e quindi abbiamo fatto un buon lavoro anche in questa settimana e siamo pronti per cercare di fare un buon esordio Abbiamo fatto secondo me tre settimane importanti due a Cascia e una qui a Troina abbiamo fatto un buon lavoro sotto l'aspetto dell'inserire e mettere concetti sia tecnico-tattici ma anche mentali e anche sul piano fisico posso ritenermi soddisfatto domani comunque sarà un buon test sotto tutti questi punti di vista La Cavese è una squadra neopromossa come noi con trascorsi in Serie C affrontare la Cavese a Simonetta Lamberti è sempre affascinante è una gara affascinante sicuramente anche difficile, complicata come tutte saranno quelle della Serie C e soprattutto quelle in trasferto andare a Simonetta Lamberti non è semplice affrontare una squadra lì non è semplice ci sarà una tifoseria che negli anni ha dimostrato di essere una tifoseria importante e calda che darà il suo supporto e anche per noi sarà un buon test anche questo perché dobbiamo iniziare ad abituarci a trovare questi ambienti e questi campi Sì, una rosa ampia e di qualità soprattutto ripeto, si sta lavorando tanto su alcuni concetti che cerchiamo di proporre giornalmente alla squadra per creare e assimilare quanto più è possibile il nostro pensiero tattico la squadra è ampia, abbiamo tante soluzioni ne avremo anche in corsa e quindi di questo qua ne sono ampiamente soddisfatto Facundo sta bene, aveva già lavorato nella sua precedente squadra quindi è anche avanti con il lavoro quasi come la squadra anche se hanno fatto qualcosa di diverso come modo di lavoro come mezzo e come metodo però va bene, sarà disponibile farà parte sicuramente alla gara Diramata anche la lista dei convocati presente il neacquisto Facundo Lescano ma tra gli assenti il capitano Sergio Sabatino squalificato